Un anno è più che sufficiente per espiare il peccato della retrocessione e così Castelleone torna a sua eccellenza grazie ai 5 gol al Segrate che sigillano il primo posto in un campionato giocato fino alla fine nel duello col Triviano. La partenza del Castelleone è quella di una grande squadra che sa quello che vuole e vuole ottenerlo presto. Al quinto Rebucci conclude, palla respinta. Al settimo il vantaggio, cross da sinistra, Maietti controlla e spara rete in sicurezza l'1-0. Passano 60 secondi e ancora Maietti potrebbe fare bis ma la palla finisce fuori di poco. Alla decimo primo segnale di vita del Città di Segrate col diagonale a lato di Visani. Poi è solo Castelleone che nel giro di 10 minuti chiude definitivamente i conti. Al ventiduesimo Sali dal limite fa 2-0. Al ventottesimo Cocci scattato sul filo del fuorigioco triplica. Al trentaduesimo non può mancare la firma di Bomber e Rebucci di testa su un bel cross per entrare nel tabellino marcatori. 4-0. Il Castelleone si riposa fino all'intervallo e poi insiste a inizio ripresa. Ci prova tre volte nella stessa azione la squadra giallo-blu senza successo dopo 60 secondi dall'intervallo, così giusto per fare capire che la tensione non è calata. Al cinquantaduesimo Ghidelli per Sali, azione tuta di prima. Sali anticipa il difensore ma non trova la porta. Al cinquantatresimo anche Bruni deve impegnarsi, si fa per dire in due tempi, sul tentativo segratese. Al cinquantacinquesimo ecco il pocherissimo Alvini per Ghidelli che serve in mezzo per Grassi che non può proprio sbagliare. Al settantaquattresimo Grassi potrebbe fare a doppietta la sua bella conclusione colpisce in pieno il palo. Al settantaduesimo un'uscita sballata di Dudiez, il portiere del città di Segrate, regala a Donzelli una buona chance ma l'attaccante Cincischia non riesce a marcare. All'ottantacinquesimo palla recuperata a metà campo, Visani questa volta riesce a segnare accorciando le distanze ma la festa a fine gara ovviamente è tutta per il Castelleone.